Sulla strada del completamento del tunnel di Avelino ci si mettono anche la carenza di fundi e l'ordigno bellico trovato sotto il ponte della Ferrera da spostare in primavera. Non c'è pace per il sottopasso che collegherà Piazza Kennedy a Rampa San Leonardo, i 600 metri scarsi di infrastrutture aviarie più lunghi d'Italia e non solo, come tempi di realizzo si intende. Il punto della situazione sull'opera avviata oltre 14 anni fa è stato fatto nella Commissione Lavori Pubblici del Comune di Avelino presieduta da Gerardo Melillo e che ha visto anche la presenza dell'assessore a ramo Tonino Genovese. Lo stesso ha già invitato la ditta incaricata, la D'Agostino SRL, a riprendere il cantiere per effettuare gli ultimi interventi di competenza quasi tutti legati alla sicurezza, sistema antincendio, installazione delle telecamere, reazione e segnaletica, mentre la Genis a cui tocca completare la regimentazione delle acque piovane e collegare l'impianto al collettore di corso Vittorio Emanuele che finisce nel torrente Fenestrelle, ora è impossibilitata ad andare avanti. Per i primi lavori, sostanzialmente prescritti dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, sono stati già stanziati 550.000 euro attraverso una variante di bilancio, ma a quanto pare ne servirebbero altri 200.000 per evitare che l'intervento venga lasciato per l'ennesima volta incompleto. I lavori di contorno relativi alla regimentazione delle acque piovane, invece, resteranno bloccati fino al disinnesco della bomba previsto per marzo.